il giorno speciale di Radio Radio allora più tardi oggi siamo proprio in vena di fare gli auguri eh compleanni l'abbiamo fatto poco fa a Guccini alle undici con Mario Tozzi lo faremo anche a Francesco Rutelli che compie gli anni proprio oggi ci sono altre figure che compiono gli anni non credo il nostro ospite adesso Mario Vattani che è con noi Mario buongiorno buongiorno a voi buongiorno non dirmi che anche tu compi gli anni oggi perché sarebbe tra un pochino tra un pochino sei giugno luglio luglio sei luglio come me allora siamo eh siamo comunque estivi e capita a chi è nato nel periodo estivo non tanto giugno perché a giugno si lavora ma tra luglio e agosto eh di essere comunque sempre fuori di festeggiare quasi mai con gli amici perché appunto è in vacanza questi sono ricordi da ragazzo soprattutto eh Mario Vattani e sei qui c'è una libro eh quindi il motivo è l'uscita di questo libro che però racconta anche un paese non molto lontano da noi l'Egitto una bella storia eh che ci racconta un paese e una comunità naturalmente anche eh qualche mistero che c'è sempre no? E noi siamo sempre credo alla ricerca di qualcosa che ci incuriosisca in un periodo in cui veramente tutto anche la nostra attenzione dura cinque minuti e poi svanisce insomma poi pensiamo ad altro no? Anche di fronte a qualcosa di molto bello. Mario intanto eh due parole solo per presentare te stesso. Beh io sono intanto volevo dirti che hai detto veramente bene l'Egitto è vicino all'Italia ma anche storicamente c'è stata una cosa che ho scoperto io quando ero console lì al Cairo è questa realtà della degli italiani d'Egitto che sono rimasti ancora prima erano moltissimi Alessandria c'erano 70.000 italiani. Una comunità di 70.000 italiani che facevano? Eh beh era era un'emigrazione italiana si andava a far fortuna perché evidentemente poteva essere fatta la fortuna. Esatto naturalmente questa comunità soffrì molto poi con Nasser perché ci furono le nazionalizzazioni e tutto però rimane ancora eh qualche migliaio in realtà di italiani che però hanno una storia da raccontare meravigliosa e che io sono ancora in contatto con molti di loro. Tu sei stato in Egitto? Io sono stato in Egitto come console. Come console? Fu la mia prima sede. Fu la mia prima sede. No non prima sede proprio ma prima sede da solo perché avevo beh una trentina d'anni ero lì ehm. Ma così presto si può diventare console a trent'anni? Beh dipende dai posti. Ma lì era. Un posto impervio e più si può fare. Esatto. Ci mandano volentieri. E lì era era una era era fantastico perché era il il l'edificio si chiamava il bulacco che poi saltò per aria. Si vede ci sono io vedi le foto del mio ufficio praticamente senza più mura intorno ma ma ecco e quello era un un palazzo che era legato alla 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 comunità italiana ed era in mezzo a un quartiere estremamente popolare quindi era molto divertente essere lì in una specie di di castrum diciamo italiano in una però in in nell'Egitto più vero in fondo che era proprio la 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 Cairo ehm che a volte aveva anche delle difficoltà e questo nel libro certo eh appare. Il libro lo vediamo eccolo qua Mario Vattani e Altaiar significa? Altaiar è la corrente. La corrente la corrente del Nilo. La corrente sì la corrente è ovvio che pensando al Cairo il Nilo ha un ruolo direi centrale nel senso che quando quando poi si vive al Cairo io guidavo mi divertiva molto devo dire guidare nel traffico del Cairo e lì ci si perde molto facilmente e però se si sapeva da che parte si era del Nilo allora bisognava semplicemente guardarlo e capire in che direzione eh andavano le barche praticamente e quindi si capiva dove ci si trovava. Allora Mario eh parliamo un po' di quindi eri console in Egitto eh evidentemente la tua esperienza lì ha prodotto qualcosa no? Chiaramente insomma esperienze di vita ma forse qualcosa di più. Quindi il Cairo era una città e non so se è ancora così una città eh dove eh evidentemente il mistero e parliamo anche di di il mistero semplicemente di cose che appunto non si svelano completamente non deve essere per forza qualcosa di di drammatico il mistero esiste ancora. Esiste e forse beh diciamo come dicevi effettivamente al Cairo mi ha comunque trasformato io dopo sei mesi già non ero più la stessa persona. Eh mi ha trasformato il modo di di vivere il ritmo il ritmo a cui si vive il ritmo addirittura a cui si cammina o si guida o o anche si sente in un certo senso. Questa cosa mi ha mi ha fatto davvero innamorare comunque è un è un è un paese eh che è come un un frutto davvero che ha poi talmente tanti colori mondi diversi perché c'è il Cairo poi c'è Alessandria con questa faccio sul mare che ricorda anche appunto anche anche in certi per certi versi anche Napoli somiglia eh Alessandria ci sono delle delle assonanze da una parte all'altra del Mediterraneo che mi hanno veramente ti dicevo mi hanno mi hanno fatto innamorare io ho voluto in qualche modo raccontarlo però sempre con il sistema del del crimine del noir del insomma cercando di di farne un racconto avvincente. È una storia naturalmente possiamo anche darne raccontarne qualche tratto cioè il protagonista mi pare che sia un giovane no? Il protagonista è un è un giovane è un italiano è un è un è un ragazzo beh insomma ha 25 anni quindi però diciamo ormai si dice così perché è figura ma 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 e quindi è un è un ex fotografo cioè è un fotografo comunque quindi ha un è diciamo che questo era molto importante perché ha un occhio ha un occhio sul mondo ha una una sensibilità e questo mi permette anche di raccontare eh l'ambientazione anche in un in modo cinematico se vogliamo è un è un italiano però è cresciuto è cresciuto all'estero quindi ha delle ha delle difficoltà certe volte a a riconoscersi in un luogo in un altro e quindi c'è questo concetto della fuga e la corrente in questo caso è anche quella che ci porta via o che ci mette di fronte a delle scelte e questo ragazzo deve reinventarsi una vita deve deve insomma io non racconto i motivi ma comunque c'è criminalità in mezzo a questo a questo racconto c'è anche una criminalità criminalità molto terribile che è quella del traffico degli organi e questo traffico degli organi realmente questo esiste realmente sì io comunque tendenzialmente io voglio raccontare cose vere questo non è non è un libro denuncia non è una però è una storia completamente di fantasia però però l'importante secondo me anche per dare credibilità ai personaggi alle reazioni che si vedono io racconto cose vere ovviamente racconto quello che so quello che ho studiato quello che ho visto eccetera e questo viene cioè credo che dia alla storia insomma una sostanza più traffico di organi e traffico di medicinali anche anche ma quindi anche traffico di esseri umani ovviamente è un tema molto attuale e diciamo che è come se con una una telecamera immaginaria ci si trovasse non al punto di arrivo ma certe volte al punto di partenza o al punto finale di certi di certi viaggi terribili che però insomma ripeto si vedono e non si vedono però il senso della realtà quello che poi succede a ognuno di noi noi non viviamo mai come i telefilm in cui veniamo il protagonista è completamente assorbito dalla sua avventura in realtà questo non succede nella nostra vita vera e io ho voluto rendere questo quindi c'è c'è qualcosa che preoccupa che c'è l'ansia c'è il pericolo però allo stesso tempo c'è anche la vita c'è l'amore c'è c'è la passione per un luogo nuovo c'è il voler volersi inserire voler capire anche la lingua per dire senti certamente la curiosità di conoscere meglio anche quel paese tu hai parlato di alessandria d'egitto che evoca storie di cultura di tradizione fortissime in noi ma anche qui in italia ci sono molti egiziani c'è quindi uno scambio forte no soprattutto in questo momento in questo momento senz'altro ci sono molti egiziani che vengono in italia secondo te guarda c'è un secondo me c'è qualcosa io io tendo questo forse è una mia tendenza a guardare anche la storia cioè la storia noi l'abbiamo con noi è come se fosse un bagaglio che ognuno di noi porta dentro di sé e che in qualche modo orienta anche le sue scelte cioè perché un egiziano può pensare per esempio di trovarsi meglio in italia rispetto a quello che vede in un altro paese se si parla qui con gli egiziani che sono anche di un'immigrazione di molto tempo fa insomma un'immigrazione regolare gente che viene a lavorare che si che si apre le attività certo sì e io me li ricordo nel mio comune io vivo in un comune di 15 mila vivanti lontano da Roma e tutti gli autolavaggi sono gestiti da loro per esempio non solo gli autolavaggi anche i negozi di frutta e verdura ma tutti completamente sono stati presi da loro evidentemente sanno organizzarsi evidentemente si accontentano di meno probabilmente per loro ma sono tutti gestiti da loro frutta e verdura importantissimo un tema un tema non un tema del libro ma un tema di di quello che si vede in questo in questo libro dico vede perché appunto ho voluto fare un film quasi però c'è un motivo per cui c'è questa diciamo questa ricchezza della terra in Egitto a parte lo sappiamo no il Nilo che 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 fa io le verdure che ho visto in Egitto non le ho viste in nessun altro posto del mondo però sono buone sono meravigliose ma non sono magazines sono buonissime e c'è una terra molto che è preziosa che è la terra del Nilo e quindi forse c'è anche un motivo e poi sono molti anche gli egiziani copti che vengono a vivere in Italia che si trovano qui condizioni sono guarda questa domanda della faccio lì c'è condizioni sono perché sappiamo che insomma non non hanno vita facile. Sicuramente quando io ero lì, io ero lì dal 98 al 2001, prima delle Torri Gemelle, io sono partito poco prima, quindi l'Egitto che ho vissuto era un Egitto diverso, ma era anche un mondo diverso da quello che viviamo. Sì, sì, non solo in Egitto. Però io vedevo già che comunque le comunità copte guardavano sempre alla possibilità di andare via, insomma, e che quindi si preoccupavano, ma non ovviamente quanto adesso, anche se va detto che il governo attuale egiziano protegge queste comunità e quindi diciamo che somiglia di più l'Egitto attuale a quello che ho vissuto io. Però è chiaro che è difficile ed è anche triste vedere che una identità talmente forte, una storia talmente antica che è quella della religione copta sia così in difficoltà. Allora guarda, noi stiamo per chiudere, il libro poi non va mai raccontato troppo, un elemento, lo scenario, il palcoscenico dove avvengono i fatti, ma nulla di più. Io credo che la copertina che abbiamo visto abbondantemente oggi anche in tv sia già molto affascinante, i tuoi racconti altrettanto. Mario, anche la tua vita. Mario Vattani da console, adesso sei a Roma? Adesso sono a Roma. Tu sei stato in Giappone a lungo anche, no? Anche sì. Parli benissimo il giapponese? Parlo sì, correntemente, la mia famiglia è praticamente giapponese, ora sono la maggioranza perché ho anche due figli. Ho capito, quindi anche sulle donne orientali potrei chiederti, sul fascino delle donne orientali. La cosa divertente, in questo libro è stato raccontato, mentre la femminilità giapponese l'ho raccontata, insomma ho avuto modo di farlo, la femminilità egiziana è meno, forse meno nota e in questo libro è molto, questo libro è molto un libro al femminile, anche questa copertina. Bene, la copertina certamente lo racconta. Mario grazie allora, edito da Mondadori, in tutte le librerie, ma è stato molto piacevole incontrarti e sentire i tuoi racconti, proveremo a farlo di nuovo, eh? Senz'altro. Nel corso magari delle prossime settimane. Inshallah. Inshallah, certamente. Grazie a Mario Vattani, grazie Mario. A presto, ciao. Attenzione!